Al Milan, dal 1986, ha portato la squadra milanese ai maggiori successi nel campionato italiano e nelle competizioni internazionali. Nel 2010 ha ricevuto il Globosoft Federal Award alla carriera. Dal 2012 è vicepresidente della Lega Serie A. Gagliani ha rappresentato la lavoriosità e l'ingegno determinato come imprenditore e come uomo di sport, conquistando una lunga e prestigiosa serie di vittorie per la squadra milanese. Grazie.